Porta Genova, via Ventimiglia, di volta gabbana, dolce gabbana vestiti da cinesi. Via Voghera, via Tortona, quest'autora si chiama Killing Machine, potete immaginare che la persona sta comprando le pistole. La prossima volta ci organizziamo e poi ci portiamo una cassa d'acqua dietro, che c'è una felpa figa. Ora ma lo so l'unica. Vi piace Rano, via Tortona. Mai Ai Liv. Teresa Mai, che ci saluta, butta la bandiera nella spazzatura. Fincilla il capezzo. Ciao a tutti. aretto. Grazie a tutti.